Amici di Twitch, buonasera a tutti e benvenuti in questo 155esimo episodio di Live Talks, il format che va ad invitare quelle che sono le eccellenze in vari ambiti della cultura pop E' proprio il format che invita, cioè prende vita, il format ha una coscienza sua Ma mamma mia, Gic, stasera è più ilare del solito, ma che hai fatto Gic? Si vede pronto Esatto, è molto simpatico Sono molto riposato, dato che non sono potuto venire a San Marino Si, hai visto? È rilassatissimo lui Rilassatissimo, rilassatissimo Sto solo rosicando tanti, però, insomma, oggi è il 155esimo Live Talks, quindi Pensa questo, ci sono squadre che vincono la Champions League e anche il giocatore che va in tribuna, che è il più scarso di tutti, in questo caso te Comunque vince la Champions League per spirito di squadra È incredibile, vero? E quindi Tipo Sturaro Esatto Cioè non ha vinto la Champions League, però Sì, tu sei lo Sturaro del canale Ecco, ti ho fatto Infanto in Serie A ci gioca, cioè ci giocava almeno Esatto Mi sta bene anche solo quello Comunque, comunque oggi abbiamo veramente Benvenuti Benvenuti, abbiamo un ospite stellare con noi, che è Lilian Caputo A.K. Elita, che ringraziamo di essere qui con noi, grazie Grazie a voi, sono felicissima Felice di parlare con voi, anche perché mi piace molto questa dinamica tra voi tre C'è un odio amore che adoro E insomma non vedo l'ora di sentire le domande e di parlare di tutti Bene, più odio che amore, dobbiamo dire Però Più odio che amore Rende tutto un po' più eccitante Vero, vero Allora noi andiamo ovviamente a ringraziare tutti voi che state seguendo la live I nostri mod, giochi fanpage, i nostri VIP Chi c'è tra i VIP? Tommy, Simona Ovviamente un saluto anche a tutti gli altri Andiamo a ricordare a bomba i comandi così non ci ritorniamo dopo Andrea, è troppo tempo che non sento la tua voce sui comandi Quindi stasera darei a te l'onore Tutti Te la senti? Ok, ok 3, 2, 1 Vai campione Vai Vediamo se mi ricordo come si fa Allora, punto scambativo Telegram vi rimanda al nostro canale Telegram Dove trovate tutte le news del canale Compresi momenti meme, piccoli spoiler e preparazioni agli ospiti Selezioniamo sempre una piccola clip che vi rappresenta l'ospite nella sua totalità Punto scambativo Sub vi rimanda il link per sottoscrivere un abbonamento al canale Che è gratuito per tutti coloro che hanno Amazon Prime Un costo crescente da 3,99 euro in su per tutti gli altri Sono 4 caffè 4 caffè, sì 4 caffè fondamentalmente Saltate la pubblicità, potete recuperare tutte le dirette che abbiamo fatto da qui a due mesi E in più potete entrare nel gruppo esclusivo Sub Dove ci sono tantissimi altri ospiti che hanno frequentato i Talks oltre noi e tutti i sub del canale Punto scambativo ospite, il comando più importante della serata Vi rimanda il link social di Lita In questo caso Spotify, Instagram e TikTok Quindi mi raccomando seguitela ma non stalkeratela Quello mai Punto scambativo quote, il fiore all'occhiello di questo canale Il calderone di frasi storiche un po' particolari Che sono state dette da noi o dai nostri ospiti durante le varie live che abbiamo fatto Chissà se questa sera Lita ce ne lascerà qualcuna Punto scambativo partners, i nostri social partner Le voci del doppiaggio e Monkey Beats Sta tornando roba da doppiatori ragazzi Punto scambativo merch vi rimanda al nostro merchandising Bene Mi sono ceppato in quel pezzo però Ma è stato meraviglioso Adesso quando mi serve una roba per una diretta chiamo te Va bene, va benissimo, io sono disponibile Bravissimo Devi sempre parlare con me però Faccio sempre amici di Twitch Ma guarda io faccio, io dico sempre questo E l'ho detto anche insomma a tante altre persone Io almeno ho una voce particolare e riconoscibile Voi due siete anonimi Siete anonimi, capito? Proprio Cerco di trovare un equilibrio tra queste due affermazioni Non so se siete anonimi però sì Ma tu hai una voce molto molto riconosciuta Ecco e questo è l'importante Bella o brutta che sia L'importante è che si riconosca Mentre voi siete un granellino nella sabbia, capito? Una di quelle voci che ti sogni durante la notte Quando fai gli incubi praticamente Comunque si dice nel bene o nel male Purché se ne parli In questo caso Bella o brutta Potrei prendere una live Potrei prendere una live dove tu smonti questa affermazione Potremmo farlo ma potremmo anche andare a bomba Sul nostro ospite di questa sera Raga Fatemi leggere il commento di Ginardi87 Perché è sicuramente un intenditore Un'intenditrice Fammelo sapere così almeno Men hai una voce seducente G che Andrea beccate e portate a casa Boom Alla fine abbiamo capito se è Ginardi, Gnardi, Gnardi E no però come fa a spiegarcelo in chat? È difficile dire la pronuncia Mauro, in che anno sei nato tu? Intendi 87, perché? Ok, apposta Allora? Tu sei fatto il profilo fake per scrivere queste cose No, ha detto che si chiama Giulia Lui si chiama Mauro Esatto Vabbè, allora è Spanky Guardate, io alzo le mani Vedi, sto con le mani in alto Sta scrivendo Quindi non posso essere io È Spanky che non è il live Giulia Che sta facendo dei commenti Mia cugina Sunshine Talks E la amiamo Mandiamole del love Ciao Ciao Sunshine Talks Che bello Grazie per essere qui stasera con noi Una famiglia proprio Che bello Che bello Ciao Comunque Giulia Ti chiamerò Giulia allora Perché mi piace comunque poterti chiamare È più facile È più facile È più facile Grazie, grazie per il continente Anche grazie a Lilian che insomma ha confermato Quindi per me Ha confermato, è stato tutto grazie a me diciamo Poteva confermare o ripaltare il risultato È stata l'Alessandro Borghese della situazione Io dopo questa posso anche andarmene Perché sono soddisfatto La tua possibilità Ciao Però no Ciao Mauro In realtà non vi lascerò da soli con Lilian Peccato Allora Abbiamo cazzeggiato anche un po' troppo Andiamo un po' con la prima domanda a Lilian È successo Lilian guarda Noi abbiamo solamente una domanda preparata Il resto non sappiamo dove andremo a parare Che è la stessa per tutti i nostri ospiti Quindi adesso te la vado a porre E porta con sé un piccolissimo preambolo Che piace un po' la chat Quindi io te lo vado a fare Noi magari ci alziamo la mattina Usciamo e incontriamo non so Dieci persone no? E in base a come ci poniamo noi con esse O a come loro sono nel mood in quel giorno In quel momento Possono avere magari dieci immagini diverse Di come noi siamo Però è interessante dal punto di vista dell'ospite Vedere come vede se stesso no? Quindi io ti vado a chiedere Chi è Lilian? Non tanto dal punto di vista professionale Perché poi ne parleremo Quanto dal punto di vista di Lilian stessa Per quel che riguarda aspetti caratteriali Passioni ed hobby Che magari esulano Quello che poi rientra nella tua sfera lavorativa Puoi anche sdragliarti È una domanda semplice Ho capito questo? Esatto iniziamo così e il resto è tutto in discesa Capito? Ok allora Penso al di là della mia carriera O del mio lavoro Di essere una persona affidabile Che è molto noiosa come cosa Però per me è molto importante Perché vorrei lo stesso dagli altri Cerco di vedere il meglio nelle cose Anche se sono molto ansiosa Molto paranoica E molto catastrofica Sono una persona drammatica E mi piace esserlo Mi piace vivermi tutto al massimo Pure le cose brutte E amo la natura Amo la vita sinceramente Cioè mi piace molto Godermi le giornate E fare di tutto il meglio che posso Che ne so Se mi faccio un caffè Non è solo un caffè Cioè un caffè Con magari un po' di menta dentro Non lo so Cioè mi godo la vita Se faccio un giardino Pianto dei pomodori Pianto dei peperoni Pianto tutto Voglio l'abbondanza intorno a me Quindi sono una persona Che gode di queste semplici cose Piccole cose Però diciamo che se mi incontri Un giorno che non sto proprio al massimo Posso essere molto intensa E molto dura E sono una persona abbastanza severa Con me stessa Quindi ho bisogno di gente intorno Che mi alleggerisce un po' E niente Vi ho detto abbastanza Sono molto passionale Tanti spunti Tanti spunti È vero A me è colpito molto Quando ha detto Sono drammatica E sono felice di esserlo Perché è bello No? Ma poi non si direbbe Non si direbbe No vabbè No sono molto drammatica Però sai che c'è Allora prima di tutto Tutta la mia famiglia Siamo dei drammatici Cioè siamo delle persone Che fanno Di ogni cosa Un dramma Ma non in negativo Cioè anche in un modo Come dire Una performance In un modo di creare Performance della nostra vita Cioè Quindi per me Essere drammatica Significa che Se sto male Lo sento molto Soffro molto E ne faccio un dramma Oddio Oddio che tristezza Oddio che situazione Oddio che dilemma E se sto bene Però anche quelle emozioni Sono al massimo Quindi cerco di vivermi Le emozioni Da 1 a 100 Invece che da 1 a 3 Capito? È un po' quello Il mio spunto E mi aiuta moltissimo Nel mio lavoro Perché il mio lavoro Ora come ora È quello di scrivere pezzi E di cantarli Anche per altre persone Quindi Usare tutte queste emozioni È vitale È cruciale Quindi Preferisco essere questo Che essere una persona neutra Beh è bello È vero È vero però Tipo Tipo una persona neutra Come Gik No? Poi alla fine Ti dà Ma è vero Ti dà anche noia Perché poi alla fine Dici Non riesci mai a capire Quando è realmente felice Quando invece è realmente triste Sembra sempre monespressivo Invece Viva Le persone che esprimono Ma è ucciso No Gik No non te la prendere Gik Con poche semplici frasi Ti ha distrutto Con poche semplici frasi Cioè io prendo Me ne vado Arrivederci Ma so che c'è Non è quello secondo me Cioè Anche se sei magari una persona Che al di fuori Sembra neutra O sembra un pochino più misurata Non usiamo neanche il termine neutro Cioè anche se sei così Sono sicura che però dentro Te le vivi In quel modo le cose Quindi è anche un modo di Ok Come ti senti dentro E come fai vedere fuori Cioè io sono una che si sente In un modo dentro E fuori lo vedi subito Quindi certe volte Non è il massimo Nel senso che se mi rodi Lo capisci subito Cioè non è che posso nasconderlo Invece magari Gik Gli ero del culo Ma non lo sappiamo Ok No no questo non è Cioè mi permetto di dissentire È una cosa molto impossibile Sia se mi ero del culo Sia se sono divertito Cioè quindi non c'è neanche L'unico vantaggio Di essere né carne né pesce Come te No Neanche quello Cioè c'hai tutti No sono proprio nato stronzo Sì Chiaro Chiaro Però cioè Sono nato stronzo È intanto una dota È una dota Io per esempio Saperlo Sì sì No no io ho un bruttissimo difetto Per esempio Come mi sveglio Sto tutta la giornata Quindi se Se parto col piede storto Non c'è verso Che possa migliorare la cosa E lo so Però non riesco a fare niente Per cambiarlo Allora aspetta Io pure sono così Cioè nel senso Io appena mi sveglio So se è una giornata di merda O se è una giornata bellissima No? Credo che tutti lo sappiano un po' Perché è lo stimolo iniziale della giornata Però ho imparato una cosa Se la prima cosa che faccio Quando mi sveglio È guardare il mio telefono So che sembro una rompipalle Però So che la mia giornata è una merda Cioè il mio Mentalmente non ci sto Prendo Ricevo queste Come dire Scosse elettriche di negatività Invece Se inizio la giornata Che magari che ne so Porto fuori il cane Senza telefono Guardo intorno Che ne so Penso C'ho dei pensieri Magari una volta E mi sento Che questo Cioè stimola La mia giornata A diventare Un pochino più positiva Che bella La routine mattutina È molto importante Cosa fai Quando ti svegli Leggi Guardi il telefono Cioè A che pensi Dipende Perché se devo andare a lavorare La mattina Non si entrare troppo nello specifico Esatto Guarda È una risposta Molto veloce Questa è molto pericolosa Come domanda Perché a che pensi Lui c'ha in testa Anche data la giovanità Praticamente Solo una cosa Cioè diciamo Eh vabbè Vabbè Capita I pensieri più 18 Non ci interessano Esatto Oltre quelli Togli quelli E dici 18 Comunque dipende Se vado a lavorare La prima cosa che faccio Ovviamente è guardare il telefono Perché Devo spegnere la sveglia E quindi già mi parte la brocca Certo Capisco No perché È alle 4 e mezza Capito Quindi Almeno recentemente Sì 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 Oh my god Ok no Vabbè Quindi Però puoi anche spegnere la sveglia E poi non Poi lasciare il telefono Eh sì Tendenzialmente sì Io ti do questo consiglio Domani provaci Stai 15 minuti Appena sveglio Non lo guardare E poi mi dici come ti senti Secondo me va meglio Vabbè Ci proverò Se me lo ricordo Ci proverò Aspetta le tue notizie Va benissimo Ho fatto le tue notizie mattutine Povero ciclo Povero ciclo Eh Jack Ognuno Ognuno ha il suo ruolo Qua ciclo Oggi mancando Spanky Che diciamo è L'anello più debole del gruppo Il secondo più debole del gruppo È ciclo Quindi insomma Sì Mamma mia Io dalla fondazione del canale Già ero un anello più debole Esatto Lilian invece Io sono molto curioso Per quello che riguardano I tuoi hobby E le tue passioni esterne A quella lavorativa Perché abbiamo visto Che questo è l'episodio del 155 E che a prescindere dall'ambito Ci sono diciamo Due o tre macro categorie Nelle quale quasi tutti i nostri ospiti Rientrano a livello di passioni E te ne vado a elencare E sono curioso di vedere Se te Magari le hai completamente diverse O anche tu Vieni Incasellate all'interno di una di queste La prima è la subacquea Ok La seconda sono i motori Quindi tutto ciò che riguarda moto Auto Eccetera Assolutamente Ma non mi può affegare di meno Vedi Poi qua vabbè Cioè io vivo a Los Angeles No? Sì An Italian Life Cioè la gente si fomenta Quindi mi piace molto invitare I miei amici americani Che non sanno come se magna A casa mia così pensano Oh mio Dio Questa è una cuoca nata Una chef stellata Addirittura E adoro Adoro proprio fare le cene Cioè C'ha dei problemi Sono un po' Ossidi E praticamente Cioè per me è molto importante La tavolata La tovaglia Cioè c'ha dei problemi Come vi sto Come vi state rendendo conto Piano piano Ma non è vero Quindi No mi piace molto Che sia tutto Cioè di entrare Che uno entra in un posto E vede che è stato tutto curato Per loro Capito? Bene Ovviamente Ovviamente poi con la tua Cioè Penso che anche Come Imbastisci la tovaglia Rispecchi poi Quello che è la tua personalità Il tuo amore No? Molto Molto Adoro Voglio che tutto sia Esteticamente Bello Da vedere Cioè Perché uno si può godere di più Le cose Per esempio No? Cioè Questi fiori Sono inutili No? Però sono belli Deve avere Non so Quando mi sveglio Li vedo Dico Che vita Che vivo Cioè una soggetta Però è così Ma non è vero Sono belli Danno colore Ti mettono allegria Cioè ti capisco Perché li vuoi Cioè pensa a una stanza A sé Poi se ci passa Mauro vicino Appassiscono tipo di stennatori Ma perché Tu pensa che Mauro Tu pensa che Mauro È stato Non avevo dubbi Per tutti i giorni Per i quattro giorni Siamo stati Cinque giorni Siamo stati a San Marino Che mi fissa Quando prendiamo l'ascensore Lui ogni tanto tipo Mi guardava Perché io fissavo Uno sticker Che era Su uno dei lati Che ogni giorno Era sempre più staccato E a me è una cosa Che dà totalmente Fastidio Ti capisco Ti capisco Il terzo giorno Il quarto giorno Non mi ricordo Lui mi guarda Col suo ghigno No E mi fa Ti dà fastidio Vero Lui ci stava tagliando Tu stavi morendo dentro E lui A me dà proprio fastidio Totalmente Cioè Era un incubo Andare in ascensore Solamente perché Vedevo quella cosa lì Che è totalmente impensabile Andrè Tipo quando Tipo quando siamo andati A pranzo a Roma Che c'erano i tavoli Disallineati E non si potevano allineare Correndo Cioè Io queste cose qua Le odio Quindi tu mi capisci Anche io Infatti Cioè adoro ospitare Però non sono Una persona piacevole Nel senso che dico Ok Aspetta No Non toccare quello Aspetta Pulisci qua Una tragedia Riga Però almeno Vabbè Almeno poi dopo uno Si gode la serata E riesce anche A lasciarsi andare Ma quando vedo queste cose Come lo sticker Di cui parli tu Ansia Ansia pura Vero Ma fai parte di quella Staccato Capito Ma c'è il controllo Comunque Per quello Preferisco vederlo staccato Piuttosto Cioè totalmente staccato Piuttosto che un pezzetto No 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 ti capisco però Ma fai parte di quel tipo Di persone che Quando invitano Le persone a casa Anche il letto In camera Che non vedrà mai Nessuno Deve essere Completamente rifatto No a parte che Ma c'è il controllo Mandatemi aiuto Bene Simona scrive bene Manda un sm Simona scrive bene Vedo che siamo tutte vittime Dei disturbi ossessivi compulsivi Effettivamente Sì lo siamo un po' tutti Ma io Aspetta scusa Ma secondo te Cioè per me deriva dal controllo Perché io Anche come tengo la casa Pulisco tutto Se vedo una briciola Nel pavimento Dico oh mio dio Cioè è una cosa Di controllo Perché magari Ci sono delle cose Nella vita Più cose Nella vita Che non possiamo controllare Quindi per me Questo è il modo Di controllare Tutto il resto Non so Secondo me ha senso Tu vedi? Sì No no Ma Mauro Adesso vogliamo svelare Un'altra cosa Il telo Sul tavolo Eh Vabbè Quando Quando lo vedevamo Leggermente Ma scusa Lì non sono io Cioè la gente Ci ha fatto di tutto Su quel telo Cioè ci hanno persato L'acqua Mangiato Il sushi Cioè Il primo giorno Che era tipo Un millimetro Disallineato Io e Mauro Ci allontaniamo un attimo Lo guardiamo da lontano Non va bene C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Fino a quando Non abbiamo trovato Il nostro equilibrio Che Non so se era giusto Però Ci dava almeno La parvenza Di essere giusto È incredibile Però non riesci a fare Comunque Questo Cioè nel senso La tua illusione Di ciò che è giusto Poi ti aiuta A non avere queste reazioni Malate Io però Ho capito Che non potrò Mai venire A pranzo A cena Da te Lilian Perché io faccio Perché io faccio Un casino Ah non perché Stai a Los Angeles No Quello prendo Un aereo Quando torno a Roma Devi venire Cioè No per forza Perché comunque Allora calcola Che mia madre È l'opposto di me Cioè lei è venuta qui Due settimane fa È stata per due settimane In casa mia A parte che Lei è un'icona Cioè cucina tutto il giorno Alle sette di mattina Te svegli Lei fa le polpette Cioè non c'ha Pure lei Non è che sta bene Però lei fa casino Cioè lei è una casinara Quindi eravamo Io che andavo dietro di lei A pulire E lei che faceva questi casini Quindi possiamo fare così Ok No ma io ci sto attento Però magari ogni tanto Faccio qualche goffagine Quindi non so Verso il ghiaccio per terra Cosa Vabbè Capirai Allora facciamo così Facciamo così Io vengo Però ti ringrazio Facendoti un cocktail Perché io sono stato Barman acrobatico Tanti anni Quindi Andata Adoro Let's do it Fantastico E a onor del vero Li fa veramente buoni Io non bevo cocktail Generalmente Ma li fa Molto buoni Bene Bene è andata Bevo molto tranquillamente I cocktail di Mauro È andata È andata È andata Allora Andrea prego Andrea vai Allora Abbiamo analizzato un po' La figura Sì No però A parte gli scherzi Parti da Da forme artistiche Differenti E quindi Questo è già Molto particolare Dal mio punto di vista Perché si toccano Più ambiti Però volevo sapere Qual era il sogno Nel cassetto Della piccola Lilian E soprattutto Se poi è stato aperto Questo cassetto O magari per ora È rimasto ancora chiuso Allora Prima di tutto Sono stata Molto molto fortunata Perché Io sono entrata Nel doppiaggio Così piccola Che per me Non è mai stato Un lavoro Per me è sempre Stato una cosa Un gioco Quasi Nel senso Che io Che fortuna Che io Dopo essere andata a scuola Posso andare Nello studio Di doppiaggio A doppiare Cioè per me Non è mai stata Una cosa Di oddio mio Che anzi Però non è mai stato Un sogno Nel senso che Io non è che A cinque anni Dicevo Ah mamma Pure io voglio fare Doppiaggio Anzi mi ricordo Che quando lei Mi ha detto Senti non riusciamo A trovare nessuno Per il Grinch E mi ha detto Che Ron Howard Si chiama Il regista Del Grinch Beh Che il regista Era quello Che poi partecipava Nel fare il casting Quindi lui aveva Comunque un'influenza Nel dire Ok chi farà Senti lui E chi farà questo E chi farà quello E lei mi ha detto Abbiamo provato Un sacco di ragazzine Però nessuno Non mi piace nessuno Ti prego prova Sei mia figlia Quindi io sto facendo Il film Prova E da lì è nato tutto Anzi per me Io dicevo Mamma A me non mi interessa Non so manco leggere Cioè come faccio A fare il film Non so leggere E lei mi diceva Non ti preoccupare Ti diamo il tocchetto Ti dirò La battuta Prima di incidere Quindi diciamo Che il doppiaggio Non era un sogno È diventato poi Un sogno In base a dei personaggi Perché vedevo Magari c'erano Dei progetti Che stavano Andando avanti E io dicevo Ah mi piacerebbe Fare questo personaggio Questo era un sogno Però se io leggo I miei diari Di quando c'avevo Tipo 8 9 10 11 12 anni Tutto è sempre Stato basato Molto sulla musica E sulla scrittura In particolare Cioè io non credo Che sarei una cantante Se io non scrivessi Canzoni Quindi non sono Una cantante Che fa cover O che canta Beyonce Però Mi piace molto Il fatto di creare Un qualcosa Dal nulla Cioè per me È una cosa magica Quindi questo È sempre stato Il mio sogno Nel cassetto E l'ho aperto E lo sto vivendo Magari non Col successo Che avrei immaginato No A 16 anni Dici A 20 anni Avrò Un record deal Avrò questo Avrò quello Però comunque Con un grande successo Se penso A da dove sono partita E quindi Quello era Il mio sogno Nel cassetto Un altro sogno Che avevo Era quello Di fare Film Mi piaceva un sacco Il cinema Quindi di creare Le mie storie Di fare Cinema E anche la moda Quindi volevo fare tutto E ero molto creativa E scrivevo poesie Scrivevo canzoni Facevo degli sketch Di vestiti Di abiti Robbe Però diciamo Che era tutto Un po' basato Su quello che vedevo A doppiaggio Se ci pensi Perché facendo i film No Senti la musica Senti il soundtrack Vedi gli abiti Dei costumisti Vedi le performance Tutti Quindi era un po' Un sogno mischiato Però diciamo Che mi sento Molto Che sto vivendo Il mio sogno Veramente Effettivamente L'arte Ha proprio Accompagnato Tutta la tua La tua vita Il tuo percorso Attuale No? Il percorso Che attualmente Ancora In cui ti sei Incamminata Sì Trovate Quindi è Veramente Molto particolare Perché ci sono persone Che inseguono Per tutta una vita No? Quel cassetto Che sembra sempre più lontano Poi E non è detto Che riescano a raggiungerlo Quindi vivere Dei giorni Consapevoli Invece di averlo aperto Quel cassetto E di aver Indossato No? Quel vestito Che era presente In quel cassetto È veramente fantastico E pensa che Secondo me è molto Da esseri umani Anche quando abbiamo Un grandissimo successo La domanda è sempre Ok poi Ok poi dopo Ok Allora quando avrò Questo poi Dopo farò quello È sempre quello Quindi secondo me Ogni giorno Dovrebbe essere Quello di vedere Ok ma da dove vengo Cioè da dove sono partito Cioè Se io penso a me A 15 anni Che dicevo Un giorno Magari voglio vivere in America Dove fanno Queste canzoni stupende Che io mi ascoltavo No? Dall'Italia E magari Vedrò a Los Angeles Magari vedrò le palme Mentre cammino E magari Cioè E poi Lo sto facendo Quindi Penso che sia molto importante Anche ricordarsi No? Da dove uno parte Perché Per esempio Una persona che insegue Il sogno del doppiaggio Cioè Di vedere anche Un brusio Come un successo Perché Prima non l'avevi fatto Quindi adesso Lo stai facendo Quindi è molto importante Per chiunque segue Una Un sogno creativo Artistico Per me Quello è il top Del top È ricordarti Da dove vieni E dirti Ok aspetta un attimo Mettiamo tutto in prospettiva Do stavo Cinque anni fa Dove sono adesso Quindi per me Guarda È una cosa assurda Perché È veramente Una coincidenza Incredibile Ne abbiamo parlato Forse Ma è Ne stavamo parlando Esattamente ieri In macchina In macchina Ti ritorno da San Marino Stavamo Il commento era questo Più o meno La differenza Tra Quando tu vedi Uno che Raggiunge il successo E poi se la tira Cioè Fondamentalmente Quando c'è una mutazione Dovuta al successo Sì E abbiamo Abbiamo identificato In questo ragionamento La causa Di questa cosa Nel dimenticarsi Da dove si è partiti Assolutamente Se tu ti ricordi Hai sempre bene Fisso nella testa Il punto di partenza È difficile Che effettivamente Tu vada A stravolgere Il tuo essere Il tuo comportamento Perché in un certo senso Rimarrai sempre con I piedi Per terra Consapevole Magari di quello Che hai raggiunto Ma perché Ti sei fatto il culo Ti sei fatto il culo Hai avuto delle persone Che ti hanno detto Non lo fare Non sai cosa Oppure che lo fai a fare Esatto Cioè non hai speranza Cioè se io penso Anche solo a mia madre Che era una cantante Lirica Prima di fare Il doppiato E la direttrice Le è stato detto Da questo direttore Che lei doveva studiare Dieci anni Prima di andare A fare le opere E poi Fai conto Un anno dopo Si è trovata A fare un'audizione Davanti a questo direttore Che le aveva detto così E un altro Che era molto più di successo Di quello là E Quello lì Karayan Che è quello Che poi le ha dato Il contratto Ha detto Oh mio Dio Sei un genio Sarai il mio soprano Eccetera Vicino a quello Che le aveva detto Tu devi studiare Dieci anni Capisci Cioè Che goduria Che soddisfazione Esatto Cioè Ti fa capire Tu fotti Te ne vai avanti Tutti Ti danno no È vero È vero Bisogna Bisogna cercare Di non farsi tarpare le ali Poi dai Da consigli di altre persone Ma seguire determinati Quello in cui si crede Può essere È fondamentale È sempre quell'immagine No? Quell'immagine Che a me piace un sacco C'è un'immagine Che ritrae un palloncino È un blocco di cemento E dice Tu non devi mai essere Nel palloncino Che quindi Alla prima Al primo successo Spicchi il volo Perdi Totalmente il senso Di dove sei Nel blocco di cemento Ovvero quello che si butta Sempre giù Se sminuisce Quello che fa Devi essere esattamente Il fiocco Che è nel centro Fra i due Ed è un'immagine Secondo me bellissima Difficile Cioè l'equilibrio In questo senso È difficile da raggiungere Però effettivamente è così Gli eccessi Non vanno mai bene Non vanno mai bene E dato che Da come siamo partiti No? Che io sono una drammatica Quando dico No? Quando sono molto giù Sono molto giù E quando sono molto su Sono molto su Però Sono d'accordissimo Mi piace molto Questa metafora La userò Magari Una canzone Poi dopo te do Il venti L'ha detto L'ha detto Qua l'ha detto in diretta Attenzione Ragazzi per sempre It's forever Esatto Esatto E ovviamente Il venti per cento Di Andrea Il quindici Andrà a me In quanto proprietario Oste del canale Scusa Mi ero dimenticata Certo assolutamente No no Va bene Il venti per cento Andrea Andrea provvederà A farmi il bonifico Del quindici Certo Se tratta Dei cifre a 6-0 Quel venti per cento Andrea Lo vediamo domani Esattamente Esattamente Dipende dalla quantità Beh va guarda Ti posso offrire in caffè Ecco Questo Questo Io non bevo caffè Quindi per me va benissimo Guarda Lillian Senti Io sono Prima che si parlava Proprio di tutte queste forme d'arte Vorrei farti una domanda Che mi è venuto in mente Proprio a San Marino Pensando a Sheffiro Che noi abbiamo intervistato Sheffiro che è uno chef Che è uno chef molto importante Qui in Italia E lui E lui da E lui da amante dell'arte Mi ha raccontato come Le varie influenze artistiche Poi Vadano a Influenzarsi l'una con l'altra Ossia lui nei suoi piatti Ad esempio Ha messo molto della pittura E quindi Kandinsky Non so Renoir Mi raccontava Hanno Ispirato dei piatti Così come Ed è stato bellissimo Quindi io ti chiederei Se Questa vale anche nel tuo caso Ossia se Tra le varie forme d'arte Tra cui il doppiaggio La musica Se una Ha influenzato l'altra O viceversa Prima di tutto Sei un romantico Grazie E secondo Assolutamente sì Al cento per cento Cioè Tutto come un Da autore No Tutto Sanguina nel resto Non so come spiegare Tutto Poi rientra Nella tua strada Vabbè Adesso mi spiego Intendo Per esempio Sono una grandissima fan Di Fellini E Nino Rota Che ha fatto Molti dei suoi film Ha composto Molte delle musiche Dei suoi film È una delle mie Più grandi ispirazioni Nel mio progetto Musicale Perché è come se Avesse Non so Io quando sento Che ne so La Saraghina La scena di Saraghina In otto e mezzo Che lei balla Su una spiaggia E c'è questo mambo No Questa rumba Di Nino Rota Cioè ti giuro Quando l'ho sentita Ho detto Oh mio Dio Io mi sento Come se io avessi Già vissuto Questa era Musicale Cioè come se io Fossi rinata Però La prima me Era questa qui Tipo in un villaggio Un po' folk Magari del sud Non lo so E quindi Ho usato poi Questa influenza Di questa Di questo pezzo La rumba Di Saraghina Nel mio Nel mio Primo singolo Che ho fatto uscire Con Sony E che si chiama Monet E lo senti Immediatamente Cioè senti immediatamente Che è una cosa Del passato Con qualcosa Di moderno Oppure Il mio ultimo pezzo Che si chiama Dove è l'amore È molto influenzato Da Ennio Morricone Oppure dal pezzo Se telefonando Insomma ci sono Delle cose Che io ho sentito In film O che ho sentito Durante Cioè crescendo In Italia Con la mia famiglia Che magari cantava Se telefonando O sentiva Lucio Battisti Che poi sono Andate anche Nella mia musica E anche nella mia vita Cioè quello che io Anche i miei mobili Cioè cerco sempre Di trovare Per esempio Quadri Che non sono cose Totalmente Non si vede niente Totalmente moderne Ma cose che hanno Una storia Quindi come mi piacciono I film Vecchi Mi piace anche Circondarmi di cose Che hanno una storia Non so se questo risponde Sì 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 Alla tua domanda Però è importante Oppure anche nella moda Cioè come mi vesto È molto strano Qui a Los Angeles C'è un po' Uno stampino Di come si veste No? Un crop top Baggy jeans Molto TikTok vibe E io mi metto Molti dei vestiti Che mi ha dato mia nonna Che ho rubato Da mia nonna Che è tutta una trendsetter Perché c'ha delle magliette Di Jean Paul Gaultier Cioè che adesso Se le vendessi adesso Io sarei ricca E lei le tagliava Se le tagliava Se le riccava Se le metteva le spille Delle robe allucinanti E io ancora adesso Faccio questo Quindi anche se magari Vivo in un mondo Molto moderno Di concentrato Molto sul futuro Però porto sempre Un po' di storia Con me Per me è molto importante Quindi nei film Nel cinema Nella musica In tutto quello che faccio Ascolto Si intreccia sempre Questa ricerca di Di passato Di storia Non so Tu hai risposto Molto Molto Grazie Anzi Molto interessante E poi nei pezzi Almeno Questa è la mia impressione Poi ovviamente Posso sbagliare Però da Ascoltatore Ma non c'è risposta Sbagliata comunque Da ascoltatore Mi è sembrato Di percepire Nei pezzi Anche semplicemente Nella fase Proprio di post produzione Quindi poi dopo In quello che riguarda Proprio il mixing E tutto quanto Un Scandire un tempo Cioè È come se Per esempio Nell'ultimo Dove l'amore È come se ci fosse Un tempo In un determinato arco Della canzone Che poi però evolve Cioè Il crescendo Così come si usa Solitamente È presente Proprio anche a livello Di Lavorazione Sì Di lavorazione sonora Sì Quindi è particolare Da quasi un effetto bolla Adoro E poi effettivamente Anche a livello metaforico È come se la bolla Scoppiasse E effettivamente Esce fuori La sonorità Poi Voluta Penso Con cui era nata L'idea del pezzo Sì È molto particolare È veramente interessante La cosa assurda È che Dove è l'amore Calcola Hai presente Quando tu Oppure se non hai presente Te lo dico Quando tu fai uscire Un pezzo È una tragedia Tutti ti chiedono Mi dai Delle frasi Che hanno ispirato Insomma Raccontaci Come è nato Questo pezzo Vabbè È una merdata Del genere E io Su Dove è l'amore Ho detto una cosa Che per me Non è una stronzata Cioè è vero Il fatto che veramente Mi sentivo in una bolla Cioè Quindi Il fatto che tu abbia usato Questo è assurdo Perché vuol dire Che un po' Ti ci ha trasportato Quindi è un successo Per me Ok Andrea adesso puoi dirlo Che hai trovato online L'intervista di Lilian No no Tra l'altro Tra l'altro Questa cosa Questa cosa Mi sa L'ho letta Mi sa che l'avevo già scritta Quando è uscito il pezzo Che l'avevo appunto sentito L'avevo ricondiviso E mi sembra che dissi già questa cosa qua Ma non mi ricordo Però no È proprio l'effetto Se tu senti Come inizia la canzone Ti dà proprio l'effetto No Come dentro Una bolla Mi immagino Io poi sono fissato di immagini Mi immagino una telecamera Dentro una bolla Che segue però Il movimento della bolla Quindi Bello Ma me lo potevi dire Cazzo Facevo il video così Cioè Me lo dici mo Sei mesi dopo Vabbè E beh la prossima canzone La fornisce da Andrea E ti fa lui L'immagine La sceneggiatura Che bomba Comunque no Mi fa molto piacere Anche perché Ho lottato Per avere quell'intro Perché Mi hanno detto È troppo lungo Nessuno ascolterà Oltre questo Questi 34 secondi Perché adesso Io Che scrivo anche Per altri artisti Noto che la cosa Che mi dicono tutti È questa Cioè Il ritornello Deve arrivare A 45 secondi Massimo Ti andi conto Che follia Cioè Ti dicono Se il ritornello Dopo 45 secondi Non arriva Le labels O le case discografiche Non lo ascoltano Cioè Per me è molto grave Perché Se pensi a Perde l'essenza Perde tutto Perde l'arte Non è più arte È solo È musica tipo McDonald's Cioè Musica fast food No E purtroppo Adesso è un problema enorme Oppure che ne so Scrivo una canzone Per questa ragazza E la sua squadra Poi mi scrive Sì però per TikTok Ci servono più transizioni In che senso Scusa Quindi non Cioè non Mi confonde Questa cosa Perché Tutti amiamo La musica bella Tutti amiamo La musica che ci piace Amiamo ascoltarla Vorremmo quasi Che una canzone Durasse di più Certe volte No Quando ti piace un pezzo Dici oddio cazzo Perché finisce dopo due minuti Adesso ci stanno dicendo Veramente Deve durare due minuti Sì Cioè deve durare Se dura più di tre minuti Ah vabbè Non capisci niente Non capisci niente Io ho avuto delle vibe Di Bohemian Rhapsody Stavo pensando anche a Bohemian Rhapsody Dove c'è proprio la scena Dove presentano Bohemian Rhapsody E c'è il produttore Che dice Nessuno l'ascolterà mai Perché dura troppo Mamma mia In radio Nessuno l'ascolterà mai E poi è diventato uno dei pezzi Forse più iconici Del mondo O comunque uno dei pezzi più iconici Soprattutto della musica di quel tempo E se pensi anche Ok Pensiamo a TikTok Perché adesso per esempio Le case discografiche Anche la mia Mi dicono No Devi fare TikTok E lo capisco Lo capisco E adesso lo sto affrontando A mio modo Piano piano Mi sto adagiando Nella vita di un TikToker No Però Penso sempre a questo Nel senso che Come fai a dirmi che C'è una musica Che funziona per TikTok Quando Dreams Dei Fleetwood Mac È diventata virale Dopo anni e anni Che è stata scritta Cioè Che cazzo state dicendo Nessuno sa Quello che andrà virale Nessuno sa Quello che avrà successo E In tutte le industrie Di intrattenimento Vi diranno No Per esempio A me dicono Ah questa è una hit Dopo che è già diventata Una hit È grazie al cazzo Ma chi c'ha Avete visto il musical O il film Jersey Boys Gli hanno detto Oddio credo Che sia Jersey Boys Sì Gli hanno detto Senti questa canzone Ci dispiace Non sappiamo proprio Che farci Non andrà mai Alla radio Nessuno ci crederà No Pensa a questa canzone Cioè Al successo Che ha avuto Negli anni Nei secoli Ci avrà successo Questa canzone E Non E fino a che Non è diventata Una hit Nessuno l'ha potuto dire Però ci deve essere stato Qualcuno Che ha creduto Nel primo Demo Quindi no Sono assolutamente In disaccordo Su tutti quelli Che dicono Che la canzone Deve durare due minuti L'intro Deve essere Un secondo Poi ci deve essere Ritornello Cioè Io ci ho proprio litigato Sul mio pezzo Dove è l'amore Perché ho detto No riga Cioè Io l'ho partorito così O chiunque me l'abbia mandato Dio L'universo Chiunque poi manda No Queste vibrazioni Di creatività A me me l'ha mandato Così Quindi perché Così deve essere Cioè Una follia Dai per un app Cioè Sta distruggendo L'arte Ma poi fondamentalmente Ci si basa Su un Allora Già ci sta Quando il discorso È sul media generale No Media persone Ok Lì posso starci Perché magari Il gusto Delle persone Condizionato In base al periodo Che uno vive Vabbè Due milioni Di analisi Di mercato Ti possono portare Più o meno Ad una formula Della felicità In questo senso Ma Basarsi su Un social Che oggi Funziona in un modo Perché l'algoritmo È fatto in un modo E domani Non si sa E non funziona più così Certo È veramente Una stronzata Cioè nel senso TikTok è un po' Sparare nel mucchio E sperare che prima o poi Qualcosa vada virale Non funziona Nel senso che Io potrei adesso Scaccolarmi su TikTok E magari vado virale Bomba Nel senso Per me Aspetta Cioè Non è che voglio essere Una country social Perché anzi Per niente Cioè sono Continuamente cerco Di fare cose Che Mi portano Ad essere Vista E ascoltata Però Perché TikTok Sta creando un po' Diciamo una democrazia Artistica No Cioè Dà A tutti Un po' Di quello che vogliono Quindi tutti riescono A trovarsi dentro Quest'app Perché io lo trovo Magico Ma quando È una big corporation Una label Un business Che dice al creatore No Aspetta un attimo Non funzionerà È esattamente la stessa cosa Di Can't take my eyes off of you No Cioè Ed è per questo Che tu devi continuare Come creatore E dire No senti Non te faccio vedere Che funziona Quindi Almeno Ci vuole determinazione Ci vuole determinazione In questo E anche Un po' Di fortuna Il problema Il fattore C Il fattore C È fondamentale Ci aveva ragione Andy Warhol Veramente Ci aveva ragione Andy Warhol Saremo tutti famosi Per 15 minuti Dicevano E anche adesso C'è anche una celebrità Enorme No Per esempio Penso a Imaneskin Che adoro Sono una grandissima fan Però Vedo quanto Almeno in America Tutto sia Istantaneo Mai permanente Cioè È tutto molto Oh mio Dio Tu non hai capito Cioè Io quando andavo Nelle mie session Appena è uscita Bagging O appena loro Sono diventati famosi Anche qui Ogni session A cui andavo Per scrivere Per un'altra persona Ah noi vogliamo fare Una cosa tipo Maneskin Tipo Tipo Il trend Ok Portano al trend Sì ma Sei mesi dopo Nessuno ne parla Sì sì Quindi anche questa cosa Porta magari A fare arte Temporanea Cioè io voglio fare Dei classici No Cioè qual è il tuo intento Dal creatore Fa delle cose Sì che Blah 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 Stupendo Meraviglioso Per due minuti E poi dopo Vieni dimenticato C'è un po' la bublemania Cioè c'era il periodo In Michael Bublé Usciva solo Con i dischi di Natale Non mi tocca A Michael Bublé Michael Bublé È il mio Cioè a Natale Metto Elvis e Bublé Quindi non mi tocca Nei due minuti Natalizie Anch'io l'adoro Però in un certo punto La sua carriera Ha smesso di fare musica Praticamente Ha fatto solo Canzoni natalizie Ma io una delle ultime Canzoni che mi ricordo Di Bublé È Party Like a Russian No no È una delle ultime La sua Io non l'ho sentita Non mi ricordo Adesso Io mi ricordo L'ultimo disco L'ho comprato Lui era un disco Però diciamo Che Bublé Non ha mai Non ha mai fatto Grande Ciao 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 Sì dai Robby Williams Co Bublé Non si può Non si può No no E mi ricordavo Lui nel video Diciamo che i pezzi Clou di Bublé Sono sempre stati Delle cover Alla fine Cioè Mi viene in mente Fever Mi viene in mente Poche canzoni Poche canzoni Sono diventate Molto molto Però se tu immagini TikTok ti crea La logica TikTok poi Non è vero Non è sempre È un po' Il social in generale Crea la moda Del trend Prima esistevano le Facebook star Poi sono morte Sono diventati tutti Youtuber Poi sono morte Sono diventati tutti Musicalier Poi sono morte Sono diventati tutti TikToker E beh insomma E si crea così Mamma mia Nulla si distrugge Si crea un trend No? E questa cosa Però è pericolosa Perché se tu dai Alle persone La moda del trend Anche l'arte Subisce poi Sta cosa Cioè io Assolutamente sì Lo so che è un commento Dalla persona ignorante Che non ha compreso L'opera Quello che vi pare Ma la banana Attaccata su un muro Con un nastro isolante Nero Per me È una grandissima Provocazione mediatica Poi dietro magari Ci avrà senso Quell'arte Ma è una provocazione Mediatica No io sono bastardo con te È tutta una roba È come quella lì Che aveva Non mi ricordo chi era La figlia di uno ricco Che ha preso Una Hermes bug Che costa tipo Non so quanto Vabbè Quanto la mia casa La Birkin tipo È E la tipo Brucia Ha bruciato una lama L'ha tagliata Ha detto Art E tutti Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Aspettate Guardate l'artista del mondo Per carità Cioè Hai avuto l'idea Bene Stupendo Però per me C'è l'esecuzione Conta Non può Allora pure questa arte Cioè Forse per alcuni Sì La cosa bella È che è tutto Soggettivo Quindi Stupendo Però tu Devi anche avere Le libertà Di dire No Per me No Certo Assolutamente Certo Per chi La pensa Diversamente Eh Ho visto State commentando Molto Su questi argomenti Vi piace Avete molto Da dire Willow dice Beh però Fuocherello Sono sempre attivo Cioè Noi Quando Siamo andati In fiera E cantavamo Erano tutti Attivissimi Infatti La musica La musica Unisce Fuocherello Dice Willow Perché Un paio D'anni fa Bubli ha lavorato Con Gary Barlow Altro Ex Take Death Quindi Geek Non eri Completamente Fuoristrada Ok Geek Quindi ti chiediamo Scusa No no Che scusa Che scusa Cioè Hai fatto Una strafalcione Però Vabbè Lilian Me prendo anche Sta mezza scusa Dai Io la sento Col cuore Te la faccio Col cuore La scusa Vogliamo Le live karaoke Insieme agli ospiti Meglio Non cantiamo Non ci fate cantare No No Veramente brutta Una delle poche Ma L'arte contemporanea Dipende Cioè Nel senso Io non riesco Ad apprezzare Dei tagli Sulle tele Oppure Non riesco Ad apprezzare Un estintore Messo là E detto Questo è un estintore Oppure Un quadro bianco Dicendo Ci vedi quello che ti pare No È una paraculata Cioè Apprezzo Picasso Perché Picasso Era una persona Di un'estrema bravura Vittorica Che ha trovato Un suo stile E ha deciso Di perseguire Di esprimersi In quel modo Però Per me è lungo Infatti Se lo posso fare Anch'io Non può essere Non so come spiegare Nel senso Se io Posso fare No Una Cioè Faccio un quadro E faccio una X No Sì Sì Per alcuni Sarà arte Però nel senso Anche Andy Warhol Faceva le stampe Delle cose Però lo faceva Nel modo di Andy Warhol Che poi tutti hanno Ricciato Mille volte Quindi dipende Comunque io adoro Più Picasso Anche questo Crea un trend Particolare Io Mi ricordo Che ero All'università E uscì la notizia Di un tizio Questo è un genio Questo che cosa ha fatto Ha preso Ha Defecato E Ha Lo volevo dire però Mi sarei immaginato Il commento di Mauro Che belle immagini Andrea grazie Ha fatto Rendere Dorata Cioè L'ha proprio Ha fatto rivestimento Dorato E l'ha spedita Nello spazio Cioè L'ha spedita Nello spazio Genio Genio Però È provocazione Cioè nel senso L'hanno ritenuta Arte Però in realtà È provocazione Perché sai Che fai una cosa del genere A livello mediatico Si crea un boom È come il tizio Che tira Che ha tirato La verniciata Ha svuotato Una bottiglietta Addosso A Gioconda Che poi in realtà C'era il vetro Ah sì 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 La pittura No non era una torta Una torta È una torta È una torta Addosso a Gioconda Che però in realtà C'era il vetro Quindi non è successo niente Lo fai per provocazione Mediatica Certo È uguale uno Che fa un puntino nero Su una tela bianca Cioè io non riesco A capire Mi dispiace Media Cioè Rispondono a queste A queste cose Cioè se guardi Anche solo Vabbè non andiamo nella politica Però I media lo fanno sempre Vogliono le provocazioni Perché vende Perché poi Stiamo parlando Quindi alla fine Quello che ha Deficato Poi ripeto Magari sono semplicemente Io che non capisco Questo genere d'arte Magari sono limitato Io preferisco Un quadro di Van Gogh A una cosa del genere No no Per carità Sono d'accordo Però Io Dato che in chat Leggevo di Andy War Io adoro Andy War Cioè nel senso Per me è stato veramente Geniale Uno degli artisti Contemporanei Più Iconici Cioè si è veramente Differenziato La pop art Cioè il rendere Famoso In tutto il mondo Un barattolo De pomodoro De zuppa De pomodoro Cioè E c'ha anche fatto vedere Quanto Capisci Cioè anche C'ha fatto vedere Quanto tutto Può essere arte Se lo rendi arte No Quindi quello che stiamo dicendo Della banana Alla fine magari Un po' di arte C'è pure lì Sì È nell'idea Magari l'arte Ma voi riuscivate Riuscivate ad apprezzare Pollock Io no Personalmente Io per me Io sì Pollock sì Perché secondo me Non lo so Mi dava delle emozioni Cioè Questo caos Sì io lo apprezzo Però appunto Mi dava sempre il senso Di Cioè di Di caotico Di confusionario Magari è quello Che voleva darti Sì però non riuscivo A dare Differenti letture Alle varie opere Cioè per me era sempre Tutto molto confusionario Tutto molto caotico Non vedevo un senso diverso Cosa che invece Per me Penso che sia la base Così come Kandinsky È tutto molto ordinato Cioè Esattamente Quando lo stile artistico È unico Non riesco effettivamente Ad apprezzare Monotematico Ti piace lo spaziare Sempre quello stile Sì Sì Perché mi da Un modo di legge Che non ci riesce a vedere niente Oltre che Quello che c'è effettivamente Esattamente Perché la cosa bella Secondo me dell'arte È che ogni volta che la vedi In base al momento L'età Lo stato Di quel momento Ti dà qualcosa di diverso Mentre in quei casi Mi dà sempre la stessa cosa Quindi non riesco Limite mio Limite mio però Non riesco Sbaglierò Poi c'è Facciamo una differenza Tra limite e gusto Cioè Quello che ti piace Ti piace Quello che non ti piace Ti piace Magari quello che non piace a te Piace a un altro Qui c'è un detto Che dicono One man's trash Is another man's treasure Cioè La spazzatura di uno È il tesore di un altro Questo detto Mi piace molto Perché c'è due volte La parola man in mezzo Quindi va benissimo One man's trash Is another one Esatto Lo userai Lo userai Esatto Vabbè qui c'è Il più banale Non è bello ciò che è bello Ma è bello ciò che piace Assolutamente È pure più bello Poi in italiano È bello ciò che piace Puntini 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 A me Esatto Questa è l'aggiunta Allora Allora Gic Andiamo velocissimi Con la tua domanda E tanto sarà La più banale di tutti Cos'è andiamo anche A leggere le domande Della chat Insomma Li facciamo Un po' conto No Allora Lilian Tu Hai accennato Diversi Hai toccato Leggermente Diverse volte Durante questi discorsi Bellissimi Che abbiamo fatto Riguardo Un pochino Alla Situazione musicale In Italia E allora Io Diciamo Da fruitore Prettamente Di musica italiana Il mio artista preferito Tra parentesi E ultimo Quindi A me piace tantissimo Proprio Il testo scritto Anche la lunghezza Non mi interessa Se quella cosa per me Bella La posso ascoltare Cioè Pensa che una delle mie Poesie preferite Sì poesie Canzoni preferite È Poesia per Roma Che lui ha scritto Non so se l'hai ascoltata Però è bellissima Ok Ed è praticamente Una poesia Quasi tutta parlata Non è cantata Mi viene da Sorridere Pensando pure Quello che abbiamo detto Riguardo al fatto Ma io mi risento In cuffia Voi no? Non mi risentite? No Ok va bene Aspetta però Vi sento in asincrono Non so che cosa Quando parli tu Succede nei casini Vi vedo verdi Allora aspetta Faccio un F5 Che risolve tutti i problemi Ok? 3, 2, 1 Raga ogni volta E parla Gic Succede in casino Lo so Lo so Lo so Lo so Ti vedo verdi Eccoci Voglio una maglietta Vi vedo verdi Eccoci Gic Vedi Non fa danni Strani Adesso Ti lo spostavo Ti diverti Ti vedo verdi Ok Ok Ci siamo? Sì Ci siamo Bene Diciamo Mi viene da sorridere Perché effettivamente Una cosa che abbiamo detto Ossia che Insomma Tutto il fatto di trend No? Ultimo per esempio Per arrivare Dove è adesso Fondamentalmente Ha avuto Un santo in paradiso Che è stato l'etichetta Che l'ha accolto all'inizio Vincendo un contest Che fondamentalmente C'entrava poco e niente Con la musica Che poi lui ha sviluppato Nel corso degli anni Perché era un'etichetta Prettamente rap Raga La prossima La prossima volta E ve lamentate Del preambolo mio Quando Gic Per fa una domanda Ci mette tre quarti d'ora Poi No Ne riparliamo Tu devi capire Tu devi capire Che lui l'ha presa larga L'ha presa larga E che la domanda È pungente Quindi l'ha presa larga Tre quarti d'ora Adesso voglio vedere Doveva arrivare Con preambolo De cinque minuti Sta facendo assaporare Sta domanda E il crescendo E poi magari La domanda No dico Fondamentalmente È curioso Come Un'icona adesso Della musica Attuale italiana Si è entrato così Da Forse Un'entrata d'emergenza Chiamiamola All'interno del panorama E come tantissimi altri Invece esplodano così E poi scompaiono Dopo due secondi Quindi Quella ti chiedo Il cantautorato italiano Secondo te Quanto tempo Riuscirà a sopravvivere ancora Andando Avanti così Cioè Con pochissimi Che Riescono poi A sfondare Cioè Il preambolo Aveva un preambolo Il preambolo Era completamente inutile Se faceva sta domanda Tipo in un secondo Vabbè raga No io Avete Allora Il cantautorato italiano Avrei potuto aggiungere altro Ma non lo farò No Puoi se vuoi No No per carità No no Se no mi blastano Quindi Va bene così Allora Ti dico la verità Io sono molto molto coinvolta Nella Industria musicale americana Quindi di lingua inglese Quindi pure UK Eccetera Quindi non seguo Moltissimo Il cantautorato italiano So che comunque Come industria In Italia Siamo molto concentrati Sul rap E che il rap italiano Non somiglia per niente Al rap americano Cioè O Quando ci prova Si sente che sta provando A essere Americano Però per me Il cantautorato in Italia Non finirà mai Perché comunque C'è un pubblico Che è molto affezionato A questo modo di scrivere E c'è un pubblico Che è molto affezionato Alle lyrics E che è molto affezionato A sapere i testi E quello che significano E questo secondo me È anche dovuto al fatto Che ci sono molte Molti artisti rap Cioè Il focus del rap È comunque il testo Quindi magari Anche se è Cantato O parlato In modo rap Per me è comunque Una poesia Cioè Quando io ho fatto Il pezzo con Tedua Che poi è la ragione Per cui ho avuto Un contratto È nato Con il suo testo Ed è nato Con un testo rap Io poi ci ho aggiunto Il mio Che per me Era un pochino Più vicino Al cantautorato Ma musicalmente Parlando no Più come testo Più come testo Quindi non so Per me Per me non è Per me non c'è una fine Poi probabilmente Anche perché non sono Così coinvolta E che non ascolto Così tanto Cioè io Mi ascolto Mahmood Quindi non Te posso aiutare Però Sì non ho proprio Un'opinione Su questo Non sono Non sono Una grandissima Appassionata Di musica italiana Di questo Momento storico O almeno di quelli Che sono famosissimi Adesso Ma ci sono Tantissimi Cantautori emergenti Anche Cioè non ce li dimentichiamo Che pure Se non sono conosciutissimi Esistono lo stesso E E non so Se ti ho risposto Che dici No Ma sì Assolutamente Per me il rap Comunque è una grande Fonte di ispirazione Cioè i testi rap Poi vabbè Come l'imbarca Impastiscono musicalmente È un'altra cosa Non è la mia cosa preferita Però Dipende Io trovo che Ultimo Sia comunque un innovatore Un po' un visionario E che stia portando Un Modo moderno Di Dal passato Comunque Cioè da Cioè i Lucio Battisti Lucio Dalla Per me Li sta mantenendo in vita Ok Ok grazie Stavo per fare un commento Stavo per fare un commento Pericoloso No no niente Andrea io No lo devi fare perché T'abbiamo visto sussultare Io vorrei Non vorrei chiudere il canale Stasera Quindi insomma Tenitelo per te Ecco Sì 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 Se è pericoloso Tienilo per te È così pericoloso Andrè No è perché È un paragone Che non sta Nel cielo in terra In realtà Ok Vabbè no Se è un paragone Capirai Basta che non mi chiudi Il canale Può di quello che No Allora Secondo me Come stile E come fanbase Analizzando il tempo In realtà Il percorso di ultimo E la figura di ultimo È un po' quella D'Antonello Venditti Nel suo tempo Cioè Pubblico Come lo segue Il pubblico Mi sembra effettivamente Quello Mentre È il pubblico Poi no A renderlo Cioè È il pubblico Che poi Guida il progetto Nel senso che Se lui Avesse Se lui Avesse magari Fatto altri pezzi E il pubblico Non avesse reagito Nello stesso modo Magari sarebbe Tornato a quello Certo Alla passione Esatto Che funzionava Ha detto Ok dai E posso dare Il massimo Di me Nei miei testi Insomma Creare qualcosa Di diverso Che però È comunque familiare Che è Secondo me Il segreto Al classico Cioè Di creare Una cosa Nuova Da una cosa Che già è esistita O che Uno si può ricordare Per questo Funzionano tantissimo Le interpolazioni O il fatto Che che ne so L'Ana del Rey Prende Summer Time E la rende Un'altra canzone Perché già esiste Già l'hai sentita Già funziona Già sai che è una hit E la rifai Certo Certo Ok Bene Domande della chat Allora facciamo partire Il nostro Bruttissimo jingle Ragazzi della chat È incredibile Come faccia Sempre più schifo Ogni volta Che lo sentiamo Cioè L'episodio dopo Fa sempre più schifo Della volta Presidenza Ma Non me lo fanno togliere Lilian Non me lo fanno togliere Quindi Stupendo Io sono una fan Ok Quindi tu Dai Insomma Supporti Vota per il jingle Io voto per il jingle Va bene Va bene Allora Vado con le domande Ricordo come di consueto Che dovete evidenziarle Usando i gigovatt Che sono i nostri punti canale Così Vado Scorro veloce Con la chat E mi fermo solamente Dove evidenziato Le prenderò a caso Quindi non le leggerò tutte Non mi insultatemi In privato Perché Più mi insultate Più non leggo le vostre Ecco Mettiamole in canale Quindi la prima Io ricordo i nomi Io ricordo i nomi Io ricordo i nomi Non sono per niente rancoroso No Depennato Depennato Esatto Allora la prima che vedo È il nostro Tommy Rolando Lui si contraddistingue Per fare sempre domande nerd Quindi ti chiederà Ti sta chiedendo Tre domande Proprio generale Sulla cultura nerd Vedo i supereroi Vedo Odio Marvel Odio Marvel Odio Marvel È una risposta Quindi Nessuno dei due Dico Secondo me Iron Man Ma solo perché Mi piace Robert Downey Jr Lo trovo molto fregno E beh Intenditrice Intenditrice Allora immagino Che tra Superman E Patriota Tu preferisca Superman Perché Henry Cavill Insomma Lo trovo molto fregno Esattamente Sì Però aspetta Voglio dire una cosa Non odio Marvel Perché non mi piace La storia Dei fumetti di Marvel Odio il fatto Che usano questi budget Miliardari Per fare le lotte De tre ore Questo non lo capisco Però è perché Io non sono una gamer Quindi non Cioè Non mi connetto Alla scena Che si ammazzano Non capisco Ok no Sono ignorante No Sono d'accordo con te Che si potrebbero fare Benissimo Bei film Senza Fare Ste lotte immense Le riduce E dai più spazio Alla storia Alle dinamiche Le persone Ho poca più attenzione Alla trama E meno agli effetti visivi Top Esatto E come Fast and Furious Cioè Questo C'è bene che è Sono da macchia Cioè Non lo capisco È tamarro Ed è bello Perché è tamarro Nel prossimo Fast and Furious Le macchine voleranno Nello spazio E ci saranno le cose Già è successo Lo fanno Lo fanno Cioè vabbè ragazzi Sopravvivono tutti Inoltre Sopravvivono a queste macchine Sì al massimo Si spaventano molto Però Finisce da Io mi ricordo ancora Quel Fast and Furious Che hanno fatto Saltare una macchina Da ingrattacero all'altro A Dubai Tipo Non mi ricordo Nel Burkha Difa Ma pure i dialoghi Di Fast and Furious Cioè ci sono queste One line La famiglia è quello che conta Esatto La gente nel pubblico Oh my god Ha detto che la famiglia Cioè delle cose Che veramente Non servono Inutili Però anche qua Il prodotto è vincente Lo continuiamo a fare Giustamente Infatti in tutto ciò In questa industria Vince Free Guy Il film che prende in giro Tutti i film Adoro Che bello Tutti i videogiochi Dove la catchphrase È catchphrase Cioè È bellissimo Quella è geniale È geniale È vero Free Guy E ti piace Harry Potter Sì mi piace Ma non sono una fanatica Di Harry Potter Però mi piace molto Lo trovo molto bello E lo trovo fatto molto bene Però non l'ho mai letto Quindi non so Se posso dire che mi piace Ok Sì che puoi dire che ti piace Perché ti chiedono Qual è la tua casata Di Hogwarts Qualora ti volessi Aspetta perché Rossa mi ha fatto Una testa così Allora Mi fa sempre notare Che non sono Grifondoro Sono O tasso rosso Se dici tanto Sì Tasso rosso O serpe verde Oppure un mix Di tutti e due Ma lei Cioè me l'ha detto lei Quindi non lo so Probabilmente mi voleva Solo offendere Non lo so No Secondo me è un tasso Sì Ok Allora Così pareggeresti Perché così siamo due Noi siamo due corbio nero Infatti Sunshine Talks Dice sì Sì tasso No Non serpe verde Quindi concordiamo Su questa cosa Ma non serpe verde Era una citazione Non serpe verde Non serpe verde Ti prego Ti prego Non serpe verde Allora Ma c'è il cappello E fa Vaffanculo Serpe verde Andiamo avanti Andiamo avanti Il nostro fan page Ci chiede Buonasera a tutti Grazie a Linian Per essere qui con noi Buonasera Vorrei chiederle Qual è il ruolo Che Oh Un attimo di serietà Che poi Giustamente Pensano Non siamo professionali Qual è il ruolo Che hai doppiato Che avrà sempre Un posto speciale Nel tuo cuore E perché Oh Ma ce ne sono tanti Allora Vi dico Quello Che non potete sapere Perché secondo me È quello di cui Sparla meno E si chiama È un film Che si chiama Espiazione Ed è un film Con Keira Knightley E Saoirse Ronan E io facevo Saoirse Ronan Che c'era tipo 12 anni E c'è Mia sorella rossa Nel film Che doppia Mia cugina E per me È stata una Grandissima prova Di doppiaggio Perché Era dal Grinch Che non lavoravo Con mia madre Come direttrice E vi dico Che non è facile Come dinamica Madre e figlia Leggio Non è Non è una vibe E mi ricordo Che al terzo turno Avevo un monologo E non riuscivo a farlo E mia madre mi ha detto Ok vattene Torna domani No 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 sei Inregistrabile Cioè mi ha proprio detto Non c'è stai Oggi non c'è il ruolo Ciao E quindi mi ricordo Questo dramma Che ho vissuto Che poi vabbè Mi ha fatto essere Più brava Semmai E dopo questo giorno Sono arrivata All'Eggio Il giorno dopo Con due palle Così E ho detto Va bene Faccio Faccio tutto quello Che devo fare Mi sento Sono nel personaggio E sono stata Molto fiera Poi dei risultati Di come Era la mia voce Sembrava un pochino Meno Un pochino Più profonda E ho vissuto Questo ruolo Con molta intensità Quindi Espiazione È un film Molto importante E poi Lilo Perché Lilo Che bello Io Voglio anche Un pop No Anche io C'ho il pop Di Lilo Io però C'ho quella Un'altra versione Quell'altro Col pesciolino Sì Mi sembra Ecco Con Pudge Allora Per me Lilo È tutto Per me Come personaggio Perché mi ha dato L'opportunità Di essere Divertente Di essere Non so come dire Ma di essere Un po' Di andare un po' Più in profondità Anche se avevo Sette anni Mi sentivo Molto molto Nella parte Adoravo Quest'immagine Di Stitch Del fatto Che lei Era molto Diversa Aveva una Personalità Molto nuova Per un personaggio Simile Si ascoltava Elvis Il modo In cui parlava E il fatto Che c'erano Delle scene Dove avevo Delle frasoni Delle pagine Così di battute Quindi era proprio Il mio film E mi ricordo Che quando abbiamo Poi Hanno fatto La preview Di Lilo E Stitch Che mi hanno Fatto alzare Dal pubblico E tutti hanno Applausi E tutti si sono divertiti E mi hanno detto Oh mio Dio Com'è possibile Ai sette anni Io avevo questa Zeppola E tutti amavano La mia zeppola Anche se io ero Molto insicura Mi ha fatto capire Che è bello Essere diversi Anche vocalmente E di non paragonarmi A nessuno Quindi è un film Molto importante Nella mia vita Se vuoi È proprio Quella caratteristica In un certo senso Che l'ha resa Iconica Sì L'ha resa facilmente Riconoscibile Rispetto a Milioni di altri personaggi Sì L'ha zeppola Sì No Sì Il modo in cui parla Che non è totalmente Corretto Non è pulito È più reale Sì Però da un certo punto di vista Penso che per me Quando mi sento Non penso di aver Che avrei potuto Fare un personaggio In quel modo Adesso Cioè C'è anche un'innocenza Dentro di una bambina Che non ha paura Di fare cose diverse E che Non ha fatto Tanto doppiaggio Da diventare poi Doppiaggese Cioè Ero molto fresca Come Cioè Come approccio Era molto fresco Nel senso che Leslie La Penna Mi ha dato molta libertà Non mi ha mai detto Ok portala così Oppure finisci la battuta Colà Ha sempre comunque Dato le redini Che bello Comunque Lilo ha fregato Sul tempo Dom Toretto Riguardo le frasi Sulla famiglia Oana e famiglia Voglio dire Voglio dire Sempre proprio E poi Dom Toretto Chi Cioè Le Hawaii Non erano mai state Rappresentate Mi è sempre Molto piaciuta Questa cosa Della cultura Proprio Hawaiiana E di come Riflessa nel film Ma poi Ha creato In realtà Contro Un'imprevisione Cioè nel senso C'è una storia Che in realtà Tutto l'universo Dietro Stitch È nato Successivamente Cioè Inizialmente Non c'erano Tutti i vari personaggi Hanno visto Che funzionava Nel corso Del tempo Ma sai che c'è Potremmo Effettivamente Dare profondità A Stitch E quindi Creargli tutta Una storia dietro I vari tipi Questa cosa Però è nata dopo Sì è nata dopo Nell'idea iniziale Non c'era No Quindi molto spesso Disney fa Delle cose bellissime Non rendendosene conto Incredibile No è Un po' caccia Dei prodotti È bellissimo Lilo e Stitch Io mi ricordo Che poi Mi colpì Molto Perché Lilo era Una grandissima Fan di Elvis No è Quindi quando Stava con Stitch Ma questa è la cosa Cioè Creare un personaggio Così Come dire Idiosincratico Cioè Diversa Una ragazzina Delle Hawaii Che si ascolta Elvis Mentre dice Lasciami morire da sola Cioè Stupendo Esatto Poi quando vado a Stitch E gli spiega Elvis Lui è il re Cioè Meravigliosa Meravigliosa Bellissimo Ti sei rivista in Lilo In quel momento Maur Tu che spieghi Elvis A qualcuno Sì Sì In determinate occasioni Ma io penso Io penso che siamo Siamo tutti Un po' a Lilo In un certo senso Siamo tutti Un po' a Stitch È vero È vero Sono due aspetti Che poi Vi dico una cosa Che poi vi dico una cosa velocissima Perché Ovviamente voglio rispondere ad altre domande Ma vi dico una cosa di Stitch Cioè Poi non so se questa è una leggenda Però Io ho conosciuto Larry Era un pasticcere Cioè Lavorava in una pasticceria Tipo a Roma E faceva questa vocetta E una volta uno l'ha sentita Ha detto Ah dovresti fare doppiaggio Cioè E lui è diventato Stitch Quindi Questa è come la storia di Paperino Esattamente Cioè La storia di perché Paperino Non parla normale Ma fa un verso Cioè Perché Quello che hanno chiamato a far provino Era un imitatore dei versi Dei animali Ed ha funzionato Fece a caso Quello della papera Gli piacque tantissimo Quell'idea Disney E faceva Ehi Tu diventerai Paperino Esatto È incredibile A me invece è venuta in mente La sorarella Perché Non so se sapete No Non so se sapete La storia di Verdone Cioè la sorarella Che era sorella di Fabrizi E No Sì Verdone cercava Una signora No Per caratterizzarla E gli dissero Guarda C'è una signora Che C'ha un negozio E poi del giorno Si diverte Andando in radio Da consigli amorosi E Verdone Andò lì Conobbe la sorarella E poi Le fece fare un provino Nel film E diventò la sorarella Però era una perfetta Sconosciuta Che viveva all'ombra Il fratello E dava consigli Amorosi in radio Meravigliosi Sono bellissime Queste storie Ma davvero La storia del Cina Eh sì Eh sì Eh Allora Andiamo avanti con le domande Vedo Questo Scorro un attimo Ok Lilian Puoi parlarci Della tua esperienza Di doppiaggio In The Ring Dove hai dato la voce A Samara Grazie mille Per le risposte Pensa che l'ho detto Ad Andrea Questo Cioè io Allora Io non so neanche Se l'ho fatto Ricà Cioè io non so neanche Se l'ho fatto Mi ricordo Che ho fatto Un turno Per The Ring Ma io non mi ricordo De Sette giorni Cioè non ho ricordi Di questa cosa Però Posso dire Posso rispondere A questa domanda Dicendo che è una delle cose Che mi chiedono In Più persone Cioè non gliene frega niente A nessuno Delle mie canzoni Dicono tutti Scusa i sette giorni Sei stata tu Quindi no Mi ricordo Che non c'era Un attore O un'attrice Che io Stavo in Fonoroma Che è uno stabilimento E sono andata E l'ho fatto Cioè potrebbe Potrebbe anche Non essere mai successo Purtroppo Vedi Vedi Bravo di avere più risposte Ma no No è È uno di quegli effetti Mandela no Dove magari Sei convinto di averlo fatto Ma non l'hai fatto E viceversa Oppure l'ho fatto E l'ho rimossa Ero piccola Esattamente Molto particolare Questo Infatti perché poi Uno dice magari Un ruolo molto iconico No Ma certo Invece A volte passano così Anche perché non hai poi La percezione di quanto Un film Possa poi diventare Importante Mentre lo stai facendo Quindi Si dici Oh madonna Ma che è sta roba Soprattutto perché Insomma Non è che l'ha fatto A 30 anni L'ha fatto Insomma da bambina Cioè nel senso Ancora più difficile Riuscire poi dopo A Anzi Penso di ricordare Che io non vedevo Lo schermo Cioè c'era qualcosa Che O perché faceva paura O per un'altra ragione Ma io l'ho fatto a voce Senza la La schermata Beh lei era molto Inquietante Devo dire Effettivamente Da far vedere A una bimba Non era Esatto Quindi si vede Che non me l'hanno fatto dire Ed è forse per questo Che io non ho la memoria Perché sono molto visiva Se fossi stato Aromatizzato forse Esatto Almeno vi avrei potuto Dere delle storielle Allora Altra domanda Ci sono dei film O delle serie tv Preferite Delle quali Non faresti mai a meno Recenti Cioè di adesso Penso Penso sia indifferente In generale Da Fruitri Fruitri Allora Senza la quale Fruitri Fruitri Mi è piaciuto Tantissimo Mauro Stupido Scusa Stupidi No niente Allora ci devo pensare Vabbè Friends Perché non la devo capire Quindi me la guardo Per addormentarmi È sempre un buon mood Siccome io vivo da sola Ho sempre paura Di essere Uccisa di notte Ci senti le ansie Di cui vi parlavo All'inizio E quindi Una cosa leggera Tipo Friends Mi piace Family Guy Le cose un po' più Easy Non troppo Che ti fanno fare Pipponi mentali Esatto Però per esempio Adoro Succession Non so se lo conoscete No Lo sentiero Me l'ha consigliato mia mamma Parla di economia Tipo una roba del genere Parla di questa famiglia Di questo Padre di questa famiglia Che ha una società E i figli sarebbero I prossimi capi Ma c'è Brian Brian Cox Che è Agamennone Di Troy Esatto Ed è fenomenale Come serie Perché stai tutto il tempo A dire Oh mio Dio E adesso che succede Adesso che succede Poi mi è piaciuto Squid Game Che non è per niente da me Perché io ho paura di tutto Però mi ha coinvolta Così tanto Dal lato Dal punto di vista Emotivo Che E anche dal fatto Che mi era sembrato Dato che io non sono Una grandissima Connoisseur Di anime Cioè Rossa È bravissima In questo Sa tutto È una grandissima fan E io Si vede un po' Per differenziarmi Un po' Per dire no Che cagata Non l'ho mai seguiti E Squid Game Mi ha dato l'impressione Di essere Un po' Quello Però con degli attori reali Invece che cartoni O fumetti Insomma Non so come sfigarlo Squid Game E poi Ce ne sono mille Adesso mi sto guardando Un po' Vi ricordate Streghe? Sì Come no? Sto riguardando Streghe Baffi Sono un po' In questa zona In questo momento storico Baffi Ci ritorna con l'old school Praticamente Sì sono molto old school In questo momento Però su Session Ve lo consiglio Perché è veramente Fighissimo Scritto benissimo E poi Un mio guilty pleasure Che non è neanche guilty È RuPaul's Drag Race Cioè Io non posso vivere Senza RuPaul E le drag race Le drag queen di RuPaul Adoro 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 tutto quel mondo L'ho scoperto in America E praticamente Sono una competizione Di drag queen Che poi alla fine Una vince Centomila dollari E diventa una star Proprio un reality Ok Ok Allora Non avevo in mente Proprio L'ho cercato È stupendo Far ridere da morire Lilian Come è stata la tua esperienza E doppiaggio In La vita Secondo Jim Dove hai dato la voce Alla maggiore Delle figlie Del protagonista Ruby È stupenda Allora Jim era Massimo Rossi Credo Ed era E la madre Era Laura Boccaneri Adoro Entrambi E Massimo Rossi Credo sia Massimo Rossi Ha anche doppiato Il padre Di Cindy Lou Nel Grinch Quindi già Mi conoscevamo Già ci conoscevamo Ed è stata Un'esperienza Meravigliosa In più Mia cugina Nike Sunshine Faceva Kyle Credo si chiamasse Che era il ragazzino Prima ha cominciato Facendo Gracie E quando Gracie È cresciuta È stata doppiata Da Lucrezia Marricchi E invece Nike ha cominciato A doppiare un ragazzino Di tipo tre anni Quindi abbiamo Questi ricordi Di noi in Fono Roma Che doppiavamo loro Ed è stato magico E mi ha fatto sentire Sia questo Che Come si chiama My wife and kids O tutto in famiglia Mi hanno dato La stessa Sensazione No? Eravamo veramente Una famiglia Cioè Ogni volta Che vedevo Massimo Dicevo Ma che bello Oggi c'è una giornata Con Massimo Rossi Cioè mi diverto E basta Saranno solo Buone vibes E lo stesso E lo stesso anche con I Little Einsteins Per esempio Che anche se Fa ridere Perché era Uno show Per bambini Eravamo io Manuel Meli Patriarca E Alessio Come è stata Proprio Mood ancora E quindi Quando mi hanno detto Ah c'è una canzone Un po' in realtà Mi ricordo di essermi Un po' impanicata Cioè Ho detto Ma come La devo cantare io? Non ci abbiamo Una cantante Che la può fare Al mio posto E mi ricordo E mi ricordo Che è arrivato Questo maestro Marco Boemi Che inoltre È la persona Che mi ha consigliato Di andare al Berkeley College of Music Che è poi dove Mi sono laureata E quindi È stata poi Una relazione Che è durata Nel tempo Ed è lui Che mi ha diretta Nella canzone Quindi Mi ricordo La mia zeppola Che era sempre presente E mi ricordo Di averla Approcciata Con Molta paura Molta ansia Ma anche Molta Spontaneità Diciamo E alla fine È durata È andata bene Io non sapevo neanche Se stavo facendo La nota giusta O se Ero stonata O Però diciamo Che mi piacerebbe Vedere adesso La musica E la performance In quel modo Un po' Innocente No? Di non Di non pianificare Di non sapere bene Quello che stai facendo Perché certe volte Le cose più belle Nascono così Poi il film Che tra mille e uno Possibili difetti Che ha gente Che può trovare Ma che si apre Con la voce Gino la Monica Che introduce Lo scenario Tutto rimato Tu non sai Per fare Quell'adattamento Io mi ricordo Cioè Anche se ero piccola Mi ricordo Mia madre Che faceva l'adattamento Mi ricordo Il dramma Di trovare Tutte le cose Di non so Chi di chi non so Cioè Una tragedia Però un successo Meraviglioso E tra l'altro È l'unico film Del Grinch Uscito Mamma mia Quanto sei polemico È super polemico Andrea Con tutto È l'unico film Del Grinch Uscito Ma non è vero Perché No Ne è uscito Un altro Che non è uscito Ma Quello d'animazione Che ve prego Ve prego Chiscia Allora Willow Willow Ciao Alita Grazie di essere con noi Stasera Hai adattato I testi Per le canzoni Del film Trolls Che differenza Hai percepito Tra il cercare Parole per le tue canzoni Rispetto a doverle trovare Per l'adattamento È una cosa Che ti ha fatto sentire Vincolata In senso negativo Allora Prima di tutto Voglio dare anche Il credito A mia sorella rossa Con cui ho tradotto Il pezzo Della scintilla Cioè il più famoso Del film Tutte le altre Le ho fatte io Ma Senza di lei Non avrei mai Potuto fare quel pezzo Perché sì Mi sono sentita Molto molto Rincolata A dover A rimanere fedele Al testo originale Cioè la differenza Tra come scrivo io E come scrivo Per tradurre una canzone O adattare una canzone È molto Basata sul Mantenere la realtà Non cambiare le cose Perché per me Quando Adesso Sento che ne so I testi Anche Meravigliosi Di film Disney Del passato Comunque so Che non era Quello Quello che Intendevano In inglese Quindi un po' Mi dispiace Che si sia Si sia perso Il significato Per ogni approccio È stato Quello di Foneticamente Parlando Se si può dire Foneticamente Perché ormai Non parlo Ma più italiano Dal punto di vista Di fonetica La cosa più importante È che Si riesca Tutto a cantare Facilmente Per me Perché so Che Per me Scandire le parole E la chiarezza Di un testo È quello che importa Cioè che ci frega Se è bene Se suona bene Comunque lo devi anche capire Quindi per me Il fatto di cantarlo In modo semplice Di non sforzarsi troppo È molto importante Quindi quando ho dato Un testo Provo sempre a cantarlo Vedere se riesco A farlo nel tempo Adeguato E poi la cosa più difficile Di tradurre Dall'inglese all'italiano È che in inglese Tutto è più corto Cioè noi I got a feeling È la scintilla Cioè Non è esattamente La stessa cosa Però Nel testo Poi c'era Un riferimento A una scintilla Tipo I got a feeling Sparking Electricity Una roba del genere E quindi abbiamo usato La scintilla All'inizio Invece che averla Dove ce l'avevano loro Quindi per risponderti a questo È completamente Un diverso approccio Da quello che faccio io Quando scrivo per me O per un altro artista Perché non penso mai Non ho mai Una cosa su cui basarmi Che amo sempre dal nulla È molto più libero Come processo Molto più tranquillo Molto più spirituale quasi Ma Ho una curiosità Dovresti stimolante O stringente Un'esperienza Alla Phil Collins Cioè Phil Collins Per chi non lo sapesse Ha scritto Entrambe le versioni Delle canzoni Di Tarzan Sia in inglese Che in italiano Tu lo troveresti appunto Stimolante o stringente Stimolante da morire Cioè la trovo Una cosa A parte che Che capolavoro Se può dire Parlando di classici Veramente Quello è un capolavoro No Lo troverai meraviglioso Vorrei lo facessero Per tutti i film Però ovviamente Non tutti sono capaci Non tutti sono Phil Collins Però no A me piacerebbe molto Ok Ok Allora Andrea Crea25 Che non è il nostro Andrea Ma è comunque Un Andrea Un Andrea Molto molto figo Molto molto figo Sicuramente più figo Di quello che Sicuramente Esatto Più figo Di Aerdna Perché Aerdna Una di quelle dieci persone Che incontri la mattina Ti disegna così Esattamente Va bene Buonasera Lilian Buonasera Tim Ciao Andrea Volevo chiedere a Lilian Che ricordi avesse Il libro di Stitch Già fatta E dei tre film Delle croniche di Narnia Ok Questo non abbiamo Meraviglioso Di Lucy Revency Di Narnia Mi ricordo solo Una magia Cioè Doppiare questo ruolo E poi essere in questo film Un'esperienza magica Poi inoltre Il cast Che avevo a campo Tanto a me C'è Flavia Quilone Letizia Ciampa Delle persone Così di talento Tutte insieme E un film Così ben fatto È stata Un'esperienza Stupenda E mi ha anche Molto spinta Vocalmente Cioè Dovevo essere Molto dolce Dovevo essere Molto sottile Molto paziente Cioè L'opposto di quello Che sono Quindi Mi è molto piaciuto È stato un film Meraviglioso E ne vado molto fiera Sinceramente Bene Bene Il leone e la strega È vero Sono bellissime Che bello Ciao Lita Ciao Lita Puoi parlarci di come ti approccia La composizione di un tuo brano In particolar modo Se parti dalla melodia O dalle parole Sempre Dalla melodia Sempre 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 Cioè Pensa che È una roba Un po' strana Cioè Io magari Quando non penso Mi vengono delle melodie Cioè Magari mi sto lavando i denti O mi sto truccando Hai presente Quando facciamo Quelle funzioni Di vita Che fai Senza pensare Quando io sono in questo momento Che credo sia un momento alfa Dal punto di vista delle onde Vabbè Delle frequenze mentali Quando io sono in un momento Dove non interferisco Con quello che sta succedendo Nel mio cervello Mi arrivano Delle melodie È una cosa Tipo un superpotere Quindi parte sempre Tutto da una melodia A volte La melodia È seguita Da delle vocali Per me Le vocali Sono molto importanti Per esempio Quando ho avuto l'idea Di dove è l'amore Sapevo che La vocale finale Sarebbe stata una E Non so come Cioè Quando mi è arrivata La melodia Ho detto Quindi poi L'ho scritta così Cioè Se mi fosse venuto Avrei fatto magari Un'altra Parola Perché sono molto fedele Alla vocale Con cui mi arriva la melodia Non so se Se mi spiego Ma Sì 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 È molto Molto melodica Come Molto melodico Come processo Chiarissimo Chiarissimo Ma Io nel frattempo Ti informo Lilian Che hai Ben tre frasi storiche Che la chat Ci ha richiesto Che non Ho inserito E te ne vado A leggere Allora La 283 Partiamo soft Mi piace circondarmi Di cose Che hanno una storia Questa è piaciuta E l'abbiamo inserita La seconda La 284 Oggi un ritornello Deve venire Entro 45 secondi Puntini puntini Questa è musica Tipo McDonald's Questa è musica Tipo fast food Anche questa Ha colpito molto Quanto è vero ragazzi Che saggezza Che saggezza È vero E tra l'altro Me l'avete anche scritta male Perché McDonald's E McDonald's Con la S finale E la post Diglielo un comment I'm loving it Poi dopo Errori mi dicono Che ho fatto io E l'ultima invece Questa è quella Un po' più Insomma così Mi potrei scaccolare Su TikTok E diventare virale Anche questa Adesso ci provo Oggi mi scaccolo E vediamo come va Ok facci sapere Però siamo curiosi Se entri in trend Lo facciamo anche noi Un TikTok Tutti e tre Che ci scaccoliamo Lo fa Luciano Facciamo un'altra diretta Dove ci scaccoliamo Insieme Però per due ore Senza parlare Esatto Senza parlare Ci scaccoliamo Perché secondo me Potrebbe funzionare Dal punto di vista mediato Bellissimo Live Talks Scaccoliamoci insieme Dai vi piacerebbe Sarebbe fighissimo I'm loving it È un errore di grammatica By the way Vabbè Will Sei proprio Saputella Era il nostro Sì ma mi sembra Che comunque No no Sì sì I'm loving it Proprio Sì 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 I'm loving it Ok Parapapapam Cioè era quella Allora Allora Signore Signore Io 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 La nostra politica È quella Di non sequestrare I nostri ospiti Quindi So Di aver letto Solo le domande Che avete fatto nel pre-live Perché adesso sto vedendo Buonasera streamer Quindi Buonasera Lita Immagino Speciale È stato No grazie Bello Grazie Lo stesso vale per te Ovviamente Perché il feeling È stato assolutamente Reciproco Quindi Qualora tu volessi In futuro Il canale è sempre aperto È sempre a disposizione Assolutamente Fare qualcosa insieme Allora L'ultima L'ho presa a caso E guarda caso È di cibo E Luciano Ok Che è una buona forchetta Immagino Ti chiede Qual è la top 3 Dei tuoi piatti preferiti Sia da cucinare Che da mangiare Facilissimo Ok Numero 1 Pasta al pesto Buona Semplice Classico Timeless Forever Ok Pasta al pesto Non si può sbagliare Cioè Nel senso La cosa più buona Più facile da fare Io per esempio Adesso sto crescendo Nel mio basilico Mi faccio il pesto In 5 minuti Pasta al pesto Fresca Cioè stiamo scherzando Te può cambiare la vita La pasta al pesto Rigorosamente fresca Sì Rigorosamente fresca Con un po' di età di basilico Magari dei pomodorini Se certe volte Mi sento un po' avventurosa Comunque Pasta al pesto Secondo In pole position Mettiamo Parmigiana Di melanzane Che non so fare Ma di cui Cioè per cui Ma la sai mangiare Ma la so molto La so mangiare Molto bene E molto Nel senso di quantità Cioè quanto ne vuoi Questo è l'importante Io ci sono La parmigiana È molto importante Nella mia vita Nel mio cuore È molto più importante Di un uomo E quindi la parmigiana Va bene È una colazione È una colazione Abbastanza nutriente E mi riempie È verde È carina E quindi Vi vedo verde Avocado Di vedo verde Giusto Io penso che su Vi vedo verdi Abbiamo Siamo La parmigiana Quindi la parmigiana È molto più importante Di un uomo Io la vado a inserire Anche questa Ne hai ben quattro Cioè questa è un Onorificenza enorme Ok grazie Penso che poi Di queste quattro Frasi storiche Una Verrà scelta Magari per Una Targa Targa Che prima o poi Consegneremo Ai vari ospiti Potemelo sapere Perché io ci tengo Moltissimo In queste case Bene Bene Assoluto Allora Andiamo Finalmente In chiusura Cioè finalmente Peggio per voi Cioè nel senso Non potete godere Della nostra Probabilmente Finalmente Per Lilian Perché dice Ma per niente Guarda io mi diverto Da morire Bene Allora Noi Vi ringraziamo Ovviamente A tutti Per essere state qui Con noi Fino alla fine Insomma Per averci supportato In tre giorni 24 ore Di stream Sopportato Sopportato Siete proprio Pinkopanco E pancopinco È incredibile Allora Lo lascio Pancopinco E pincopinco Quindi Ovviamente Il grazie Grazie a Il mod Che sono la polizia Del canale Che tengono tutto Mamma mia Che Quanto sei becero Oh Non ne perde una Non perde un'occasione Riga No No È sempre Io Sempre sul pezzo Allora Lui è la mosca fastidiosa Quella mosca Che sai Che sta lì E ti viene a rompere Le scatole Quando Comunque Ce le stai affibbiando tutte Io so A zanzara Lui è la mosca Il suo ruolo È giusto rispettare È giusto così È giusto che funziona La dinamica Ragazzi È vero Allora Se Andrejic Vogliono Vado a concludere I saluti Non lo so Se vogliamo Lillian Possiamo concludere Non lo so Ecco Ora non mi va più Ora non mi va più Comunque Il grazie più grande Questa sera Oltre a tutti E ci avete seguito Nooo Ma che culo Non lo sapevo Capiamoci Cioè il giocatore più importante Va nelle live più importanti E infatti stasera sono qui Ma infatti Venerdì chi avremo Allora vi do un indizio Venerdì avremo un produttore Sceneggiatore Sceneggiatore Regista E vi do quattro titoli Quattro titoli Febbre da cavallo Vabbè ma io ho stato di tutto Andre No il nome non lo diciamo Febbre da cavallo Eccezionale veramente Vacanze di Natale Eccezionale veramente Vacanze di Natale E Il quarto lo lascio scelta Yuppies Ok L'avete capito Grazie mille Lita Per il follow Grazie a voi Grazie Quindi se non l'avete capito Insomma così Dobbiamo dirvi Si postiamo Che abbiamo Enrico Vanzina Venerdì con noi Non si può dire Vabbè però scusami Fai a me fa uno spoilerino Su Per voi Dici che c'è Enrico Vanzina Guardate che Mezzo spoiler funziona Quindi No no abbiamo proprio detto Alla fine ragazzi Venerdì Enrico Vanzina Enrico Vanzina Esatto Poi Questo solo per voi Chicca Basta Mauro Basta Io chiuderei così Grazie ancora Lilian tu non te ne andare Così ci salutiamo Off live Come Esatto Perché insomma Intanto domani sera C'è il mio just Se ci avete in cazzo Seguitelo Magari ci divertiamo Discutiamo No no Seguitelo Che mi rovinate Statistiche del canale Tutti presenti Fammettino fatto Ok Esatto Buonanotte a tutti Ciao 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 Grazie a tutti.